Ciao a tutti i video spettatori di Radio Bantra Sound Radio Web, benvenuti qua al Count Basi Jazz Club, siamo in compagnia di Rino Calandra e Astrid, non mi ricordo il cognome, Jakobsen. Jakobsen, abbiamo assistito noi presenti qua questa serata ad un bellissimo concerto dove sono stati eseguiti sia brani di Rino Calandra tratti dal suo album che ho qua tra le mani, che è quello che non c'è e che è il suo primo album solista dove suona e canta brani originali. E' affiancato da Astrid, ha eseguito dei brani cover e anche brani originali vostri o no? No, questa sera no. Ancora no questa sera, io sono, l'abbiamo seguiti, ne hanno fatti parecchi, hanno tra l'altro fatto vedere proprio una grande capacità di interpretazione e soprattutto per questa, bravissima, il finger picking che esegue Rino. Raccontaci qualcosa di più terino di come è nata questa collaborazione. Questa collaborazione è nata grazie a un mio amico Ezio, che a sua volta, un suo amico è Federico Lia, che è un costruttore di chitarre e conoscendo Federico mi chiese un giorno se avevo bisogno di una cantante e così ho conosciuto Astrid. E te Astrid, la stessa cosa, eri alla ricerca di qualcuno oppure è stata un'idea forse di Federico? No, in realtà era da tempo che stavo cercando una guitarrista che potesse suonare quel tipo di musica, di canzone che avevo voglia di cantare io ed era da tanto tempo in realtà che... Sì, certo, certo. Niente, sì, perché tra l'altro come abbiamo sentito la caratteristica proprio appunto di questa chitarra ritmica, di questo suono particolare, di questa tecnica accompagna molto quindi e riempie molto e si presta proprio a un duetto che può essere fatto di chitarra a voce. Come ti trovi comunque con Rino? Benissimo, benissimo. E te, 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 te... No, non avevo puntato nessun mitra. No, io mi trovo molto bene con lei perché oltre a cantare bene, essere una bella ragazza è anche molto intelligente e questo secondo me fa la differenza. Bene, ti ho fatto un complimento che veramente me lo segnerei sul diario se ce n'hai uno. Qualcosa di più, nel senso, avete appunto parlato di brani inediti e comunque originali vostri. Come saranno questi brani? Abbiamo già fatto un pezzo, in realtà era Rino che aveva composto della musica, poi io ho scritto un testo e insomma poi ne parliamo anche insieme che tema, che sentimenti vogliamo trasmettere. Insomma è... si crea poi insieme. Ho capito. Niente Rino, invece, quando comunque, te che comunque hai in mano lo strumento e che sicuramente hai questa grande voglia di esprimerti, quando ci farai sentire qualcosa di questa... con Astrid che ci ha conquistato questa sera con la sua voce? Qualche brano nostro insieme? Certo. Al più presto, anche adesso se volete. Caspita, ci spiazza così noi di mantra sound. Lo faremo ascoltare da qui a breve anche perché non è ancora finito del tutto e diciamo che lo stiamo ancora metabolizzando perché comunque per me fare brani in inglese miei è una cosa un po' particolare quindi ci dobbiamo abituare. Sicuramente è una sfida che va presa in considerazione anche perché aprirsi con la lingua inglese a un mercato più internazionale può essere una cosa che può dare sicuramente delle soddisfazioni. Io te lo consiglio anche perché hai un ottimo stile, ora senza volere fare il ruffiano, diciamo, e poi con Astrid avete veramente le carte in regola. Sì, no, dicevo che secondo me comunque bisogna guardare i cantautori che ci sono in Italia, anche quelli che i cantautori alla scuola genovese, però non bisogna poi chiudersi lì dentro perché comunque c'è tanto bello da vedere anche fuori. E fare appunto brani in inglese è comunque sempre un sasso in mezzo al mare, però comunque c'è la rete, che è la rete in tutto il mondo, non c'è solo Genova o l'Italia. Certo, certo, questo lo ribadiamo noi sempre, io ci tengo a sottolinearlo, il discorso comunque del free download, della musica libera e di come sia possibile oggigiorno veramente con pochi mezzi, ma soprattutto utilizzando il cuore e non credendosi di essere chissà chi, a poter produrre la musica e a distribuirla veramente, farla arrivare in ogni angolo del mondo. A proposito di questo che è tra le mani, che è comunque un CD, diciamo, vero e proprio, come stanno andando le vendite, cioè nel senso che promuovi, comunque stanno andando bene, a un bel riscontro, vedo che tra l'altro qua in questo bellissimo articolo di promozionale, dove te sei ritratto tra l'altro benissimo, oserei dire, cioè è bellissima sta foto. Chi te l'ha fatta? Dai, a parte gli scherzi, no? Questa è una bellissima foto, è fatta Riccardo. Ma dai, non c'è scritto. No, a parte gli scherzi, quello che vuole dire, è stato bellissimo l'articolo che, insomma, è bello intenso, cioè sono belle ribe, lo vedrete poi comunque sulla nostra pagina Facebook, perché lo vogliamo scannerizzare e postare come documento, perché è interessante, Luis Lunardi ha fatto un'ottima recensione. Però appunto poi dal vivo, cioè nel senso il discorso della vendita, mi interessava sapere proprio come sono le reazioni poi del pubblico, se hai dei contatti, delle cose. Ma diciamo che io sono molto soddisfatto perché chi viene a sentirmi spesso e volentieri lo vedo tornare, quindi deduco che le canzoni gli piacciono e se non li piacciono è uguale, ecco, perché comunque in questo CD ho messo delle cose vere, emozioni vere, storie vere, e quindi è un po' darsi agli altri. Le vendite stanno andando così e così, però chi lo compra poi mi contatta e rimane soddisfatto di quello che ascolta. Bene. Tira un occhio alla free download e alle etichette, alle net label, potrebbe essere un'idea per la prossima produzione e niente. Voglio fare l'ultima domanda a Astrid, cosa ne pensite appunto del creative commons e del free download della musica? Per la musica in generale forse è un bene, ovviamente può essere perché la gente riesce ad ascoltare tante cose, proprio approfondire le conoscenze, eccetera. Ovviamente per i musicisti può essere un danno perché alla fine la musica o magari non sarà poi pagata per quello che ha fatto. Sì, è ancora un motivo di dibattito, ancora questo molto aperto, diciamo. Con questi quesiti possiamo dire un arrivederci a questo punto ai nostri videospettatori di Mantra Sound. Un saluto da Astrid Jacolson e Rino Calandra. Arrivederci a bientone. E dal vostro beniamino Ricky Rock. Ciao ragazzi, ci vediamo sempre qua sopra. Ciao ragazzi, a presto.